Il testo della direttiva che il Viminale ha diramato alle autorità per controllare le iniziative della Mare Junio, la ONG che batte bandiera italiana Arriva la direttiva di Salvini per regolamentare le ONG Il testo, annunciato nei giorni scorsi da Matteo Salvini, è stato firmato dal Ministro dell'Interno E così da ora il Ministero dispone alle autorità di vigilare affinché il comandante e la proprietà della nave Mare Junio non insistano con la loro attività illecita Si tratta di nuove indicazioni dettagliate su come contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, soprattutto di quella incentivata dagli interventi da parte di imbarcazioni private In particolare dell'ONG di Casarini.Bisogna infatti fare alcune precisazioni Se Roma può opporsi alla prodo a Lampedusa di navi ONG che battono bandiera straniera, il recente caso di Seine è la prova, è più difficile farlo quando a presentarsi di fronte al porto alla Mare Junio Che a poppa sventola il tricolore Salvini non può chiedere a Olanda e Germania di farsi carico delle loro imbarcazioni umanitarie e poi spedire altrove Mediterranea Ma se l'attività della ONG incentiva gli attraversamenti via mare di cittadini stranieri non in regola, allora occorre operare in altro modo per tenerne a bada le operazioni Ecco il perché della direttiva.Il testo è stato inviato al capo della polizia e ai comandanti di arma, guardia di finanza, marina e capitaneria di porto E si tratta di un duro.L'accusa alle ONG.Entriamo nel dettaglio La circolare considera per appurato il fatto che lo stazionare delle barche solidani a largo della Libia, che si risolvono nel preventivato ed intenzionale trasporto dei migranti verso le coste europee, concretiti in qualche modo, anche per le attività di pubblicizzazione Non è una cooperazione mediata che incentiva gli attraversamenti via mare dei migranti e favorisce obiettivamente l'ingresso illegale nel bel paese Il Viminale mette tutto nero su bianco. Non solo il favoreggiamento, ma anche il fatto che le strategie criminali dei trafficanti Salvini è certo che le forzature delle ONG di fatto accrescano il pericolo di situazioni di rischio per la vita umana in mare e determinino la violazione delle norme Inoltre, c'è anche il rischio che caricando migranti dai barconi possano entrare in Italia Direttiva coccita addosso a mare Ionio.Il Ministero non nasconde che la nuova e più stringente direttiva sia coccita addosso alla mare Ionio di Luca Casarini La Novi dell'Exno Global è accusata di aver prelevato i migrati in aree che non rientravano nella responsabilità SAR italiana E soprattutto di averlo fatto rifiutando il coordinamento della autorità straniere legittimamente competenti Ovvero della Libia. Si pensi all'ultimo inti-vento della mare Ionio Per il Viminale l'ONG non ha utemperato le istruzioni di coordinamento SAR diramate da Cripoli, nonostante fosse in acqua di competenza non italiana Non solo. Prima ha richiesto l'assegnazione del porto di sbarco Il tutto pur non avendo l'autorizzazione e sapendo chiaramente che l'Italia non poteva essere investita della responsabilità Le disposizioni. Per impedire un nuovo preordinato trasferimento nel bel paese di migranti irregolari Salvini intima quindi alla ONG italiana di attenersi alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di sofforso in mare e di idoneità tecnica dei mezzi impiegati per la citata attività Inoltre, la mare Ionio dovrà rispettare le prerogative di coordinamento delle autorità straniere legittimamente titolate al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare nelle proprie acque di responsabilità Infine, non dovrà reiterare condotte in contrasto con la vigente normativa nazionale ed internazionale in materia di soccorso in mare, di immigrazione, nonché con le istruzioni di coordinamento delle competenti autorità Scacco matto